Se devo evocare una memoria è quella di un brano musicale, quello dei Pink Floyd, The Wall, che era alla fine degli anni 70. Canzone che ricordo, pur magari non capendola in quegli anni, ma ho imparato a capirla dopo, perché è una canzone che ha accompagnato tanti momenti della nostra vita nel mondo e soprattutto grandi momenti di libertà. Quindi le canzoni hanno una storia e durano oltre alla loro stessa esistenza e possono accompagnare passaggi importanti della nostra vita.